Un saluto a tutti i presenti alla cerimonia di inaugurazione del nuovo lapidario promosso dalla Lega Nazionale Sezione di Gorizia ed un sentito ringraziamento a tutte le autorità civili, militari e religiose coinvolte nell'odierno evento. È un momento importante che coinvolge tutta la nazione. La Italia Sedeca, del tempo di silvio, se città la terra dove la victoria devorà la mia. Grazie a tutti. La loro Giuseppe, San Cataldo, Angelillo Antonio, Anzichi Settimio, Vitigliano, Avellino Luigi, Civitavecchia, Cerasa Luigi, Comandini Olindo, Cesena, Cortese Magri, Destallis Eugenio, Villanova di Parenzo, Eliseo Giuseppe, Fattoretto Vittorio, Piove di Sallo d'Oro. Furlani Arrigo, Gorizia, Gallinari Renato, Lucchetti Virgilio, San Giovanni Alnatisone, Maggio Pennisi Filadelfo, Pizzuti Emilio Salerno, Polidoro Ed... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.